E allora buonasera, qui Davide Santoni, portiere del Bologna, Bologna 5, Cagliari 2, come andava? Beh andava bene, visto il risultato, 5 a 2 che dichiara ciò che abbiamo fatto di buono dentro al campo, un Cagliari che purtroppo era una mura che stava molto asciugona in fase realizzativa, ma per caso sempre l'ultimo passaggio finale. Beh sicuramente grandissime parade hai fatto questa sera, la curiosità è questa, ma come mai non riesci mai a fare un intervento con le mani, nel senso che va benissimo, hai degli atteggiamenti scomposti però efficaci, alla fine riesci lo stesso a portare la parata finale fisica, Beh sì, devo dire che sono molto macchinoso e molto legnoso sull'ultima parata. Effettivamente Stainiti stai giocando la vetta per il miglior portiere del campionato, va bene così, grande fair play da parte vostra e anche del Cagliari, e quindi un bocca al lupo veramente di entrare nella fase finale della Champions League, della giocherette sicuramente l'ultimo giurale con il Panello e il Catania, ottima squadra, ottima squadra, anche noi il Catania si sta giocando allo scudetto, quindi bocca al lungo Davide, a te Bologna e ci vediamo alla prossima, grazie e solo l'azione.